Buon salvone appassionati di Football Manager! Oggi vi porto questo format per una volta sul canale YouTube ma per chi mi segue sulla piattaforma viola l'abbiamo già fatto a novembre 2022 con altri personaggi ma spiegami innanzitutto in cosa consiste questa modalità per carriera roleplay si dovete proprio interpretare un personaggio realmente esistente presente nei database di FM che andremo però a rimuovere sostituendolo di fatto con le stesse caratteristiche mentali di allenamento, patentino, reputazione, foto e cercheremo di muoverci come si muoverebbe lui sia all'interno che all'esterno del terreno di gioco questo format quindi predisputo da quello di Tiz che ha fatto più di qualche anno fa la carriera roleplay sul FIFA lì però non c'è il patentino non ci sono tanti elementi che qui ci permetteranno di andare ancora più in profondità quindi faremo un po' quello che ha fatto lui andremo a creare una tattica ispirandoci proprio a Luis Enrique con il Napoli e andiamo anche a fare mercato così come potrebbe magari farlo proprio Luis Enrique proprio in base a quelle che sono le sue esperienze da allenatore come conoscente di certe determinate nazioni poi andremo a simulare la stagione e vedremo se l'effetto del nostro mercato e l'effetto della nostra tattica porteranno qualcosa di buono per il Napoli per capire se a Napoli effettivamente converrebbe avere a che fare con Luis Enrique perché scelgo proprio Luis Enrique per il Napoli? beh è stato effettivamente uno dei primi nomi sondati da Aurelio De Laurentiis dopo che Spalletti ha fatto capire che sarebbe preso un anno sabbatico è vero anche che lo spagnolo ha detto inizialmente no perché preferiva un'esperienza in Premier però ad oggi le cose sono cambiate tutte le panchine delle più grandi squadre di Premier League sono occupate dopo la scelta dell'allenatore nuovo per il Chelsea e anche per il Tottenham non c'è più spiraglio per Luis Enrique per andare in Premier quindi torna di gran carriera l'ipotesi di portarlo a Napoli Napoli è sicuramente una grande piazza è una piazza che però ci ha messo più di 30 anni per vincere un atto scudetto quindi capisco che magari un attore abbia un po' anche timore di doversi confrontare con l'annata appena passa di Spalletti però io penso che Luis Enrique sia un attore che non ha paura delle sfide e questo potrebbe essere proprio molto importante perché sì ha vinto tanto col Barcellona ma diciamoci la verità non è scontato ma non è neanche impossibile quando hai quei giocatori che aveva il Barcellona qui invece ha comunque dei giovani promettenti certo alcuni di questi erano oggetto di mercato infatti cercheremo anche di muoverci in uscita così come sembrerebbe muoversi anche in Napoli e vediamo cosa combineremo la nostra carriera all play parte proprio da luglio 2023 ma come Lucullus è davanti di un anno? assolutamente no partiamo proprio da questo mese, da questo anno grazie al file che vi ho fatto vedere già qualche tempo fa con i risultati reali quindi ci sono proprio i risultati di questa classifica con il Napoli che ha vinto lo scudetto con 90 punti con la penalità della Juventus di 10 punti che quindi finisce solamente in settima posizione poi sapremo se la UEFA li manderà effettivamente in Europa o meno e poi abbiamo uno spareggio già perso dallo Spezia nei confronti del Verona in questo caso chissà se poi in qualche modo rifletterà la realtà per quanto riguarda la Serie B stesso discorso abbiamo Fosinone e Genna che sono state già effettivamente proposte ancora non c'è stato lo spareggio tra Bari e Cagliari ma in questo diverso parallelo ha vinto il Cagliari cosa carina vi ho già messo anche non solo le penalità vecchie in questo caso ci sta per esempio la penalità della Regina che normalmente nel gioco non ci sta e altre penalità ma la stagione poi 23-24 parte già con la penalità di 4 punti per la Sampo quindi vi ho già aggiornato assolutamente tutto per giocare anche voi con FM 2024 già praticamente a giugno 2023 e veniamo adesso alle cessioni perché poi sono quelle che ci hanno permesso anche di fare acquisti e rivoluzionare un po' questo Napoli in ottica Luizia Eureiche Kim Inge anche in Real Life pare essere un giocatore interessato ad abbandonare la Serie A e ad andare in Premier League lui c'è in Real Life lo United qui con noi abbiamo avuto un'offerta dall'Inviterra Sema da Newcastle quindi ci abbandona questo ottimo giocatore arrivato anche quasi con un po' di scetticismo dalla Turchia ma che poi ha dimostrato di essere decisamente all'altezza della Serie A ci abbandona anche Giovanni Simeone che è stato da poco riscattato da Napoli su di lui c'è un forte interesse anche in Real Life da parte della Lazio e quindi dopo un solo anno ci lascia era poco rispondente al modulo di Luizia Eureiche va via anche Lozani in questo caso si poteva anche trattenere visto il modulo che abbiamo creato ma visto e considerato che ci sono delle offerte anche per lui e che pare voglia comunque provare a cambiare area ho voluto essere realista e quindi l'ho messo sul mercato peccato per la cifra incassata veramente bassa si poteva fare quasi il doppio Gianluca Gaetano è ancora giovane per carità ma non più giovanissimo è un giocatore che però non è assolutamente adatto alla Serie A per la scheda che si trova su FM quindi andava decisamente venduto e per 2-3 milioni insomma mi ritengo soddisfatto non so se alla fine rilano veramente le offerte per Rosy Mervis la grandissima stagione che ha fatto di Alive con il Napoli ma noi abbiamo accettato 99 milioni dal Marshall City che è praticamente quasi la causa di decisione che rappresenta nel gioco ma questo ci permetterà anche di poter rivoluzionare finalmente il sistema di gioco di Luis Enrique che sarà sì un 4-3 ma diverso rispetto a quello di Spalletti vanno via anche altri calciatori alcuni molto giovani altri molto grezzi facevano parte del Napoli riserva e comunque alla fine fanno bricioline che sommate alle eccezioni viste in prevenza fanno sì che il Napoli possa incassare 177 milioni da questo mercato estivo in attacco arriva davvero un gran bel colpaccio un giocatore dal Francoforte che è conteso da tanti club esteri sto parlando di Colum Wani è un giocatore che rappresenta anche una bella scritta per Luis Enrique perché noi in attacco utilizzeremo il falso 9 e lui è un giocatore sicuramente tecnico ma è principalmente un giocatore che sfrutta la componente atletica e anche quella fisica perché sia molto rapido ma è anche bravo di testa anche alto ma è un giocatore ripeto anche tecnico quindi sarà davvero interessante vedere come si calerà all'interno del sistema Napoli l'abbiamo pagato forse anche un pelino troppo ma avevamo tanti soldi a disposizione visto che abbiamo speso meno di quello che prevedevo per l'attaccante ma soprattutto l'abbiamo strappato alla contesa della Juventus la rivale anche del Napoli quindi Pau Torres è stato un colpo sicuramente goloso un giocatore che se vi ricordate ha battuto la Juventus con via real per 3 a 0 nel 2022 a marzo di fatto buttandola fuori dai possibili quarti di Champions League un giocatore che sa giocare anche con i piedi molto bene quindi potrebbe essere utilissimo al gioco di Luis Enrique questo è più una scommessa però attenzione si è ripreso rispetto a quello che abbiamo visto qualche anno fa Gabriel Barbosa ha pagato 15 milioni all'Inter non ha fatto benissimo ma è anche vero che nella stagione 16-17 ha giocato appena 9 partite quindi non ha avuto il tempo per diciamo farci vedere chissà cosa è anche vero che è andato in Portogallo per metà stagione neanche lì ci ha fatto vedere nulla ma una volta tornato in Brasile sia al Flamengo sia al Santos si è completamente ripreso segnando fraccate di gol proviamo a riportarlo in Europa ma sarà comunque in riserva di Colomani meno forte fisicamente rispetto a Colomani ma più tecnico quindi potrà essere utile anche sulla zona di tre quarti laterale come terzino destro arriva Alvaro Odriozola un giocatore che era madrida ha pagato un sacco di soldi 30 dalla riassosità nella stagione 18-19 non ha mai convinto né i madrileni né le squadre che l'hanno preso in prestito vedi Fiorentina vedi Bayern Monaco però è un giocatore dotato di capacità di saltare l'uomo è un giocatore decisamente tecnico rapido quindi può essere utile per il gioco di Luis Enrique diciamo più che altro che avrei preferito quando la scheda su FM è un po' più di fantasia però ricordiamo che viene come riserva perché il titolare sulla destra sarà di Lorenzo ancora una volta con l'accessione di Lozano ci si arriva un altro giocatore sulla tre quarti che sapesse utilizzare il destro ma quello che abbiamo preso sa utilizzare persino il sinistro Giesper Carlson giocatore svedese della Zed un elemento che è stato cercato anche da squadre italiane come Lazio Fiorentina ma lui ha sempre detto che vorrebbe arrivare sin seria ma gli piacciono soprattutto Milan e Napoli diciamo che sono particolarmente interessato a vedere cosa combinerà va sempre o quasi in doppia cifra negli ultimi anni almeno in campionato ma è un giocatore che può giocare soprattutto attaccante esterno diciamoci la verità Meret a parte forse quest'ultima stagione non ha mai convinto del tutto la dirigenza a parte in Opea hanno sempre voluto affiancargli un altro portiere un po' più di esperienza anche perché Meret qualche volta si fa male quindi anche io mi sono tutelato e prendiamo dalla Real Sociedad per meno di 20 milioni un portiere interessantissimo Alex Remiro questa sarà quindi la tattica che utilizzeremo in questa carriera roleplay interpretando Luis Enrique abbiamo optato soprattutto per atteggiamenti in supporto come vedete non è un caso volevo alzare la fluidità di squadra che in base alla mentalità che si è scelta chiaramente si può alzare maggiormente utilizzando ruoli in supporto diminuisce invece se voi utilizzate più atteggiamenti difensivi o di attacco cosa comporta un'alta fluidità che i giocatori possono diciamo non essere fermi fissati sulle loro posizioni del reparto ma si possono anche interscambiare questo rende chiaramente il gioco molto più simile a quello che ci ha fatto vedere Luis Enrique nel corso di questi anni mentalità dunque positiva abbiamo a che fare con una squadra che vuole mantenere il pallino del gioco in base di possesso abbiamo un'ampiezza abbastanza larga non deve essere né troppo larga né troppo stretta perché dobbiamo spuntare tanto le spinte centrali tanto quelle laterali perché sappiamo che nel gioco di Luis Enrique abbiamo i giocampisti centrali che poi si proiettano su altre quarti per mettere in difficoltà i difensori e dare uno sbocco più libero alle punte che potranno quindi poi essere servite dagli stessi CC che avanzano ma anche lateralmente abbiamo i testini futificanti o gli esterni completi come in questo caso che si vanno a proiettare su altre quarti per stringere ancora più verso il centro gli attaccanti esterni sistema di gioco giocare la palla negli spazi in combo con i portali poi in area ma come funzionano in combo? certo se no li avrebbero bloccati gli sviluppatori ma sta di fatto che questa combinazione quest'anno va bene ed è soprattutto una combinazione che è in linea con il Tic Tac verticale moderno che vogliamo ricreare ed è anche in combo con un ritmo di gioco leggermente più alto sappiamo benissimo come il City ha messo difficoltà il Real Madrid proprio con l'intensità quindi è un falso mito che diciamo il Tic Tac verticale debba avere un ritmo basso quello è quello orizzontale quello vecchio stile che oggi chiaramente viene messo sotto scacco dallo stile dalla filosofia del Game Press abbiamo anche un passaggio chiaramente più corto perché si deve sbagliare il meno possibile quando vuoi controllare il possesso questo ce lo insegna anche il maestro Sacchi dribbling affrontare difesa palla al piede perché le contese devono essere poi attivate da tre quarti a salire visto che abbiamo giocatori sulla carta tecnici che possono saltare l'uomo ed è anche qui in combo perfetta con Tic Tac verticale perché si attiva dalla tre quarti a salire mentre negli altri reparti anche se può avere un minimo effetto invece si tenta di passarlo il pallone non di saltare tutti i giocatori per quanto riguarda la fase di transizione fare pressa al autocampo è tipico del Tic Tac mentre non utilizziamo il contropiede lanciare la palla lunga con l'invio ai terzini in fase di non possesso abbiamo una difesa più alta questo ci garantisce di compattare la squadra visto che il pressing come linea di pressing è molto alta e fai scattare il pressing molto spesso la palla deve essere sempre nostra se non è nostra bisogna subito andarla a recuperare altrimenti poi ha meno senso questa filosofia di gioco 26 agosto 2023 praticamente la stagione partirà ufficialmente quest'oggi con la prima partita di Serie A del Napoli contro Udinese ho già fatto anche gruppi di toraggio tutte queste cose ve le ho già spiegate nei video che abbiamo in aprile list guide su FM 2023 che trovate sul canale Lucullus Games se andiamo in tattiche potete notare come la famiglia sulla tattica è praticamente già al massimo con anche tutte le famiglia sui singoli ruoli che sono praticamente quasi tutte al massimo e abbiamo anche una famiglia alta quasi massima persino per i giocatori di di sera perché le amichevoli me le sono gestite io per far sì che aumentassi appunto la famiglia sui singoli ruoli ho anche curato il morale fin qui dei giocatori ma aspetta alla simulazione io da adesso in poi non farò più nulla magari ritorneremo in qualche data strategica per capire come sta andando magari la stagione ma ripeto noi non toccheremo più nulla sarà adesso tutto nelle mani del simulatore buona la prima il Napoli asfalto l'Udinese 4-1 con doppietta tra le altre cose di Colomuane ottimo risultato anche per quanto riguarda la componente finanziaria il tetto in gaggio del Napoli che è calcolato a lordo è di meno 90 milioni siamo la stessa squadra in termini di monte in gaggi per quanto riguarda la Champions League finiamo in un girone tutto sommato abbordabile il gruppo E prevede anche Porto Leverkusen e Monaco di Francia questi invece gli attegioni con il gruppo C veramente allucinante City PSG Lazio e Real Sociedad poi scendendo forse volendo anche un altro girone da segnalare Chelsea Ajax Salzburgo e Milan per il resto secondo me sono già abbastanza inquadrati i team che riusciranno a passare prima partita in Champions League ufficiale con questo impegno casalingo contro i portoghesi dobbiamo sicuramente provare a partire bene siamo partiti benissimo 3-1 blocchiamo momentaneamente l'esperienza il 21 di gennaio per capire come si sta comportando il club in Napoli al momento in Serie A è in seconda posizione in uno dei campionati più vivi di sempre 4 club al momento sembrerebbero attrezzati per la lotta alla Serie A al momento però sta vincendo il Milan con un punto di più rispetto a Napoli e Atalanta nella parte bassa Genoa Frosilone e Monza sembrano più in difficoltà rispetto a Cagliari è vero una però attenzione il capo caroniere al momento è Vlaovic secondo Kvara Sveglia come attaccante esterno sta fallendo sembrerebbe con l'Umoni qui possiamo notare almeno due aspetti uno che senza di noi la squadra non sta curando le cose più importanti ovvero vedete come il morale per quando non sia negativo è comunque calato rispetto a quello che avevamo all'inizio stagione la forma partita di alcuni giocatori è pessima quindi non stanno facendo abbastanza turnover noi abbiamo detto chiaramente da di vacanza utilizzate questa formazione non abbiamo imposto determinati 11 titolari perché altrimenti si dice che poi mettono solo quelli e compagliano addirittura i giocatori in ripa con la fatica troppo alta purtroppo FM da questo punto di vista dovrebbe migliorare andando in vacanza al momento però notate come appena 11 gol Politano da riserva perché è subentrato 27 volte ma con l'Umoni ne ha fatti appena 9 quindi il falso 9 così come vi dicevo a inizio di questa esperienza di FM23 già qualche mese fa non mi convince rispetto agli altri anni dove lo vedevo un po' più efficace ricorderete la tattica fatta con i due falsi 9 e la punta centrale sul finire di FM2 che funzionava alla grande però quest'anno io vedo il falso 9 veramente poco 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 propositivo in fase offensiva gironi di Champions allucinanti addirittura l'Inter arriva terza nel girone A con il Fenerbahce seconda a pari punti tra l'altro col Bayern di Monaco il Lione fatto fuori ci poteva stare nel gruppo B il City fatto fuori dal gruppo C passa a Lazio prima ma com'è possibile tutto questo Real Madrid e l'Ips giustamente passano passa anche il Napoli in questo girone e che ci interessava particolarmente per quanto riguarda il gruppo F complimenti al Milan per il gruppo G nessuna diciamo novità particolare e diciamo che anche il gruppo H bene o male fa passare quelle che ci saremmo aspettati subito Mission Impossible per il Napoli però agli ottavi di Champions l'accoppiamento ci ha messo contro il Chelsea ci sono già però partitoni come Dortmund Arsenal PSG Bayern Monaco ma soprattutto cosa ha fatto il Napoli in Supercoppa italiana il primo dei quattro trofei a disposizione di Luis Enrique ci abbandona vince il Milan ai rigori contro il Napoli diamo uno sguardo quindi alla corsa scudetto quando mancano ormai cinque partite al 25 aprile 2024 e il Napoli che sta comandando la classifica un punto in più rispetto all'Inter Atalanta e Milan hanno due punti in meno entrambi in 74 il Napoli però è la scuola più in forma del momento ma guardiamo quali sono le sfidanti dei partenopei sicuramente Milan e Lazio possono essere pericolose anche perché poi Milan è anche uno sconto diretto l'Inter allo stesso modo ha due sfide sulla carta toste ovvero Atalanta e Roma l'Atalanta è forse quella messa peggio perché ancora Roma Inter e Juventus tre sfide importantissime in Milan tutto sommato è quasi linea con il Napoli perché ha due sfide magari top con lo sconto diretto anche con il Napoli ma poi Monza Bologna e Verona sono sicuramente abbordabili diciamo che il Napoli ha una grande 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 grandissima chance di portarsi a casa il quarto scudetto diamo uno sguardo a cosa sta accadendo però in Coppa Italia perché il Napoli ha battuto l'Empoli agli ottavi sorprendentemente se solo fa fuori la Lazio che però si dimostra ammazzagrandi perché pure la Juventus ne fa le spese poi fuori anche Roma e Milan il Napoli batte il Modena che era riuscito ad arrivare persino ai quarti di Coppa Italia in semifinale i partenovei battono l'Inter l'Atalanta fa fuori il miracoloso Sassuolo sarà quindi Napoli-Atalanta la finale di Coppa Nazionale finale di Coppa Italia che quindi si sblocca già al ventiquattresimo con un errore in impostazione dal basso dei Bergamaschi che favoriscono il recupero di Colomani che poi alla fine porta alla rete di Kvarasveglia 1-0 il Giorgiano ancora devastante anche in questa season ma non hanno fatti conti con l'Atalanta e i Bergamaschi quindi vanno al pareggio 1-1 al ventesiesimo ma poi sale in cattedra il maestro ma lui la gira a Kvarasveglia e il massa in becca così Politano che aggancia e tira con il sinistro 2-1 il Napoli ribalta la situazione poi all'ottandottesimo questo va a dare l'ennesima imprinting di questa partita per il Napoli con l'Extra Zed che la gira sulla testa di Pau Torres scomplice anche l'errore di Musso in porta il Napoli va sul 3-1 finisce quindi qui il Napoli vince la Coppa Nazionale non ci posso credere cosa ha combinato Luis Enrique suicidio Napoli nelle ultime 5 giornate erano primi classifica 8 punti invece finali dal Milan anche apolista tutto parte proprio dal Verona la partita sulla carta più semplice sbagliata con questo pareggio 1-1 e poi pareggio anche con il Genoa il Genoa che sta finendo in Serie B e poi non è ne azzeccata più una mentre Milan le ha azzeccate tutte ce la prima ancora la Champions League con il Napoli che riesce clamorosamente a far fuori il Chelsea e invece Milan e Lazio che potevano sicuramente fare meglio accompagnano PSG e Barcellona fuori dalla competizione per quanto riguarda i quarti altro miracolo di Luis Enrique fa fuori l'Arsenal altro club inglese passano anche Bayern Monaco Real Madrid e Lipsia e poi in semifinale in Napoli mi batte anche il Bayern di Monaco adesso la finalissima sarà contro il Real Madrid primo giugno 2024 finale di Champions League a Wembley il tempio del calcio di Londra con subito Valverde che imbecca Asensio che prova a innescare il velocissimo Vinicius Junior che va quindi al tiro con lo scavetto irriverente nei confronti del portiere del Napoli il Real passa in vantaggio voi direte ci sarà tempo no la partita finisce qua 1-0 contro il Napoli il Real Madrid vince l'ennesima Coppa dei Campioni e quando mai darei un consiglio spassionato a Aurelio non comprare lo spagnolo punta invece italiano che almeno le finali le no le perde pure lui mi sa che è meglio cercarne un altro un altro per gli appassionati di FM non sorprende affatto vedere immobile ancora capagoniere della competizione veramente immortale in questo gioco ottimo anche per Ockbaras Velja da attaccante esterno non ha fatti esattamente quanto Vlavic che sicuramente rischia di non rimanere alla Juventus ma il capagoniere di tutto il Napoli è proprio lui il georgiano che ha fatto 32 gol e 14 assist quindi anche il miglior assist no perché Ziliski è il miglior assist man sono riuscito anche a rinnovarlo diciamo che alla fine Colomani comunque 18 gol li ha fatti ma sorprende quasi più vedere Politano farne 16 visto che partiva anche spesso come riserva vediamo i top e flop di questo mercato cosa ha funzionato cosa no innanzitutto Colomani ha migliorato il suolo di mercato vale più del doppio di quello abbiamo pagato e soprattutto ha fatto sia assist che gol quindi ha provato Pau Torres vale leggermente di più di quanto abbiamo comprato quindi bene anche lui sono rimasto molto deluso da Yes per Carlson perché non vale granché l'abbiamo pagato 20 milioni media insufficiente appena un gol in Serie A per cosa riguarda Barbosa non mi aspettavo chiaramente chissà cosa però purtroppo male anche lui media sotto il 7 appena due reti in campionato Odiozola stupisce in positivo ha fatto bene comunque la riserva 21 presenze 7 e 0 3 non è niente male Alex Remiro l'abbiamo comprato per alternarlo a Meret ha fatto 9 presenze 8 gol quindi ha subito un gol a partita tutto insommato è in linea con la stagione che aveva fatto in precedenza con la Sociedad possiamo quindi dire che Pungolare Meret ha funzionato la media voto è sicuramente ottima quindi ormai è guarito diamo uno sguardo anche a quei giocatori che abbiamo ceduto sul mercato per capire se abbiamo fatto bene o meno a liberarcene Kim Inge l'abbiamo mandato via perché sembrerebbe essere in uscita anche in real life il Newcastle però ne ha beneficiato migliore giocatore del Newcastle e anche migliore giocatore tra quelli coreani la sua media voto è stata di 6,99 quindi comunque positiva un gol in Premier League curioso quello che invece è successo a Osimena se ne è andato al City per una cifra monster di 99 milioni vince anche la Supercoppa inglese a inizio stagione viene inserito tra i migliori 11 della Nigeria però poi viene acquistato a gennaio dal Bayern di Monaco per 38 milioni e mezzo che poi diventano 71 evidentemente ma attenzione perché lì in Germania almeno vince Coppa Nazionale e campionato ma all'atto pratico sto ragazzo ha fatto la panchina sia al City sia al Bayern Monaco sorprendi invece Gianluca Gaetano che gioca titolare nell'Amburgo 33 presenze squadre che si riesce quindi tranquillamente a salvare arrivano dodicesimi come dimostra anche il prezzo d'acquisto lo zano arriva alla Juventus per fare la riserva in campionato gioco comunque 19 partite quindi praticamente metà season media quasi del 7 5 gol in campionato diventano anche 9 considerato tutte le competizioni della Juventus molto positiva anche la stagione di Giovanni Simeone che va all'Aston Villa per 22 milioni e mezzo con 18 centri in 35 presenze di Premier League niente male questa stagione dell'Aston Villa con Unai Emery a dirigere la squadra che arriva in sesta posizione brevemente come sono andate le altre coppe l'Inter vince l'Europa League una finale tutta italiana contro la Roma mentre la Conference League la vince l'Union Berlino che batte la Juventus in finale 1-0